Volevo dire che io penso che noi abbiamo il diritto di lavorare giustamente per vivere e avere più tempo libero per una vita più serena. Questa società deve avere anche una sanità pubblica dove tutti hanno il diritto di eccesso. Vorremmo vivere una società un po' più in amore, una società più umana, dove ci si può aiutare vicendevolmente. Speriamo che questo avvenga, che noi vogliamo una società dove tutti stiano bene, che stiano felici per il tempo che devono vivere con un po' di libertà. Grazie.